Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, guardiamo insieme le notizie principali di oggi. Una fiera in salute con obiettivi di crescita, Iega prova il bilancio, riparte dalle conferme, Ermetti resta presidente, Peraboni amministratore delegato. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Verucchio, un anziano finisce sotto al suo trattore mentre taglia l'erba, salvato dai vigili del fuoco. Sanità, inaugurato il CAU, centro di assistenza e urgenza di Rimini accanto all'ospedale Infermi e il decimo aperto in Romagna. E poi il calcio, il Rimini esce sconfitto per 4-0 dall'ultima trasferta del campionato a Gubbio che sarà anche la prossima avversaria nei play-off. E apremo allora andando in fiera, presentato il bilancio di Iega e il nuovo consiglio che conferma Ermetti alla presidenza e Peraboni come amministratore delegato. Tante le novità in vista del prossimo triennio, nuove fiere, nuovi mercati internazionali e l'ampliamento del quartiere fieristico con un'area che darà anche spazio ad eventi sportivi e musicali. È un bilancio tutto in positivo, quello dell'Assemblea di Ieg, in cui è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione che ha confermato Maurizio Ermetti alla presidenza e Corrado Peraboni come amministratore delegato. Il precedente triennio ha visto Ieg come una delle poche realtà fieristiche ad essere inattivo rispetto al periodo prepandemia. Ora si apre una nuova fase per consolidare i risultati ottenuti e guardare al futuro. Già in questi primi mesi i numeri confermano il buon andamento, CIGEP con il più 22% di buyers, Food & Beer Attraction con il più 20% di visitatori e continua l'attenzione per i mercati esteri con lo sbarco a Riyadh in Arabia Saudita e l'annuncio di nuove fiere sul territorio, tra cui una dedicata al mare e agli sport acquatici a Rimini. Ma il consiglio è attento anche alla sinergia con la città e per il 2026-27 annuncia la fermata delle metromare per la fiera, lo spostamento in avanti degli orari di inizio delle fiere per impattare meno sul traffico e il nuovo quartiere fieristico in cui spiccherà la cupola, un'area di 17.000 metri quadri che ospiterà, oltre ad eventi fieristici, anche concerti e appuntamenti sportivi, un arricchimento per tutta la città. Guardiamo al futuro con grande ambizione e l'idea è che nei prossimi cinque anni in realtà questa società possa giocare un ruolo di primaria importanza fra le più importanti a livello nazionale e internazionale. Per questa ragione curiamo e coltiviamo con la nostra esperienza le manifestazioni sui quartieri di Rimini e di Vicenza, le manifestazioni storiche nei quartieri di Rimini e di Vicenza che progressivamente comunque anche crescono in termini di numero e soprattutto di visitazione. Nelle manifestazioni organizzate da ottobre a oggi c'è sempre stato il segno più e molto spesso a doppia cifra sulle manifestazioni che abbiamo, buon segno per le manifestazioni che abbiamo organizzato e poi c'è ovviamente l'ambizione di presidiare con i nostri settori industriali e con altri settori anche il mercato internazionale. I bilanci sono stati presentati, direi che siamo l'unica società che è sopra, ampiamente sopra sia in termini di fatturato che di marginalità rispetto al 2019 e questo è un grande presupposto per continuare a crescere. Questo mandato è quello del consolidamento, dobbiamo consolidare le piattaforme che abbiamo creato e mettere a servizio delle manifestazioni che facciamo a Rimini e Vicenza che è il fine ultimo di queste iniziative. La cronaca tragedia sfiorata nel pomeriggio a Verucchio in via Montirone dove un anziano intorno alle 15.15 è stato soccorso dai vigili del fuoco che l'hanno liberato e consegnato ai sanitari del 118. L'uomo era sul trattore pare stesse tagliando l'erba in un campo di ulivi quando all'improvviso il mezzo pesante si è inclinato e ribaltato, determinante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio evitando che il mezzo pesante potesse schiacciare l'anziano rimasto incastrato. Il ferito, una volta al sicuro, è stato adagiato sulla barella e immobilizzato dai sanitari. Prima di essere caricato in ambulanza e poi sull'elisoccorso diretto all'ospedale Bufalini di Cesena non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Da una parte alcune ragazze russe, dall'altra un gruppetto di italiane. Sono le protagoniste di una rissa andata in scena la notte del 18 aprile scorso a Riccione che in totale ha coinvolto una ventina di giovani. Ad avere la peggio però è stato un amico delle ragazze russe, intervenuto per difendere alcune connazionali e pestato da un ragazzo, probabilmente italiano, che lo ha scaraventato a terra e colpito con calce alla testa e al volto. Il 26enne di origine russe di professione chef che vive a Rimini e dalla cittadinanza italiana rischia di perdere la vista da un occhio. Infatti, in seguito ai colpi ricevuti, è stato accompagnato al pronto soccorso di Rimini e dimesso con una prognosi iniziale di 15 giorni per un trauma cranico e un'emorragia oculare. Rivolto se l'avvocato Caroli si è recato in caserma dove ha sporto denuncia per lesione al momento contro i gnoti ai carabinieri di Riccione. La polizia locale di Riccione invece, insieme all'unità cinofila, ha effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli sui mezzi del trasporto pubblico locale, in particolare sulla linea 11 e sul metromare nelle fermate di competenza, quindi quelle della Perola Verde. Tra le decine di persone controllate, cinque soggetti sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di ventenni, italiani e stranieri, regolari sul territorio nazionale. Complessivamente è stato sequestrato circa mezzo etto di droga che era nascosta sui veicoli del metromare, ma anche nelle stazioni intermedie. E adesso spazio alla sanità. Taglio del nastro, infatti questa mattina per il centro di assistenza e urgenza di Rimini sarà aperto ogni giorno per 12 ore e il decimo attivo in Romagna e presto ne arriveranno altri. Anche Rimini ha il suo CAU per i pazienti che necessitano di assistenza per problemi urgenti, ma a bassa complessità. Il centro di assistenza e urgenza, il decimo in Romagna, è entrato in funzione nel padiglione di via Ovidio, a pochi passi dal pronto soccorso dell'ospedale Infermi. È aperto ad accesso diretto sette giorni su sette dalle otto alle venti, dodici ore. Gli utenti vi troveranno all'interno un'equip medico-infermieristica con strumenti di approfondimento diagnostico. Gli spazi si sviluppano su un unico piano per circa 250 metri quadri. L'intervento, a carico dell'AUSL, è stato di 300 mila euro, a cui vanno aggiunte le spese per le aree esterne, dove in estate sarà costruito un nuovo parcheggio in aderenza a quello attuale del pronto soccorso. Obiettivo strategico dei CAU, ricorda l'azienda, è il rafforzamento del sistema delle cure primarie, per dare risposta sul territorio a quei bisogni di salute che altrimenti potrebbero tradursi in accessi impropri ai pronto soccorso. Non casuale, spiega Mirko Tamagnini, direttore del distretto di Rimini, la scelta di attivare il CAU riminese all'avvio della stagione turistica, quando l'afflusso di persone è più elevato. Il 20 maggio aprirà poi il CAU di Bellaria, con la trasformazione dell'attuale punto di primo intervento, mentre nel secondo semestre dell'anno apriranno quelli di Riccione e Morciano. Dal 18 dicembre al 28 aprile gli accessi ai centri già operativi in Romagna sono stati oltre 30.000, con quelli di Cattolica e Sant'Arcangelo, i più gettonati, che hanno sfiorato i 5.500. Centinaia di motociclisti si sono dati appuntamento nel fine settimana per il moto incontro del SIC 58, organizzato dal motoclub Misano Adriatico in collaborazione con la Fondazione Simoncelli e patrocinato dai comuni di Coriano e Misano. Ieri ben 500 moto hanno raggiunto il Misano World Circuit per poi fare un giro turistico sulle strade della Riviera Romagnola. Nelle immagini vediamo il passaggio proprio nel salotto di Riccione, concludendo con la parata in pista in onora del SIC, raccolti anche 30.000 euro per l'acquisto di un ecografo da donare all'ospedale di Riccione. Il raduno, dedicato al campione corianese, morto in pista nel 2011, ha poi avuto il suo clou con l'accensione straordinaria a Coriano della fiamma dedicata al SIC per la durata di 58 secondi, il suo numero. Il palasport Flaminio di Rimini riabbraccia la pallamano, sport che in passato ha portato grandi soddisfazioni alla città. Si è svolto ieri un trofeo dedicato ai ragazzi, promosso dalla società che sta facendo ripartire questo sport a livello locale. Le nuove leve della pallamano a sfidarsi al Flaminio, lo stesso impianto dove la pallamano cittadina ha scritto pagine gloriose. Nel primo trofeo rinascita pallamano Rimini, organizzato dall'omonima associazione sportiva, ci sono affrontati due gruppi dell'Istituto Comprensivo 20 Settembre Borgese, due compagini dell'Istituto Comprensivo di Igea Marina e dell'Istituto Comprensivo Franchini di Sant'Arcangelo e due squadre della rinascita Rimini. A spuntarla in una finale tirata è stata Igea Marina sulla Franchini. Il torneo, salutato anche dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, è stata occasione per riannodare i fili con la pallamano di tanti anni fa, prima che questo sport scomparisse dal panorama riminese. Paolo Iommi, storico presidente della Iomsa Rimini, ha premiato alla memoria personaggi come Alfiero Bugli, Nino De Flavis, Paolo Del Bianco, Atos Taddei, Luigi Vignali, premi anche per le giocatrici e il tecnico Ermanno Migani che hanno portato a Rimini gli scudetti femminili 97-98. Tra i tanti personaggi della pallamano locale presenti al Flaminio, anche Lino Saulle e Toni Pasolini, i due tecnici degli accesi derby dell'handball riminese. Tanti ricordi, ma anche tanta voglia di trasmettere la passione alle nuove generazioni. E adesso parliamo di calcio. Il Rimini chiude la regular season con una sconfitta netta a Gubbio, che sarà il primo avversario nel play-off dei Biancorossi, sempre nello stadio della squadra Umbra. Per Colombia e compagni, che restano decimi, è il sesto K.O. di fila in trasferta tra Campionato e Coppa Italia. Vediamo. Ultima partita di regular season per il Rimini, che grazie alla vittoria interna con la Virtus Entella ha già staccato il pass per i play-off. I Biancorossi sono di scena Gubbio contro la quinta in classifica, squadra già affrontata due volte in questa stagione, vittoria in Coppa Italia e sconfitta in campionato. Al diciassettesimo Corsinelli aggancia e mette in mezzo un pallone basso per Bernardotto, anticipato a Dogorelli che chiude in angolo. Al diciottesimo Di Massimo da calcio piazzato per la conclusione di prima di Chierico, che non lascia scampo a Colombi. Gubbio in vantaggio. Alla mezz'ora uno due Di Massimo, Bernardotto Di Massimo e conclusione dal limite dell'area, che simila lato. Al trentaquattresimo Udo allarga a sinistra per Mercadante, che mette al centro. Bernardotto tenta la stoccata, esterno della rete. Al quarantaquattresimo Meghelaitis dalla bandierina per il colpo di testa di Ubaldi sul secondo palo, anche in questo caso esterno della rete. Al quinto della ripresa Meghelaitis viene fermato così nella trequarte offensiva. La ripartenza Umbra, finalizzata da Udo, che può involarsi verso Colombi e superarlo per la seconda volta. Al sedicesimo Di Massimo, cala il Tris con una staffilata di destro dal limite dell'area. Al trentunesimo, cross di Udo per Bumbu. Palla Galeandro, che calcia addosso a Colombi con la porta spalancata, fallendo il 4-0. Al trentatresimo, sala per Cernigoi, il cui destro dal limite dell'area non va distante dall'incrocio. Al quarantunesimo, rigore per il Gubbio per un intervento di Meghelaitis su De Sogus. Prima dell'esecuzione Gigi è costretto di uscire in barella per un problema alla caviglia. Il Rimini chiude in dieci. Sul dischetto si presenta Galeandro, che trasforma, nonostante Colombi si tuffi dalla parte giusta. Finisce 4-0 per il Gubbio, che sa la quota 59 e chiude il quinto posto. Il Rimini rimane decimo con 50 punti. Le due squadre si ritroveranno faccia a faccia per il primo turno dei play-off. Al fronte di un risultato del genere è chiaro che si rimane delusi. C'è da chiedere scusa ai tifosi che sono arrivati oggi, perché comunque sono arrivati in tanti. Quello è doveroso da parte nostra. Me ne assumo le responsabilità perché, come sempre, il messaggio non è arrivato diretto sul fatto che avremmo trovato una squadra forte, intensa. Nel primo tempo ci hanno messo pressione. Poi, sotto l'aspetto tattico, abbiamo rinunciato, pronti via, a utilizzare quella condizione che ci poteva permettere di mandarli fuori giri e di creare qualcosa in più. Col passare del tempo, nel primo tempo, l'inerzia è un po' cambiata, con cui ci siamo a faccia di dilare con pericolosità, mancando poi quella cattiveria che serve negli ultimi 20-25 metri. Merito al gubbio, anche per la manifattura del primo, del terzo gol, secondo secondo me condizionato in modo importante da un fallo su un mega. Ci assumiamo le responsabilità, ci richiudiamo lì dentro, come abbiamo sempre fatto tutto l'anno, per cercare di preparare una settimana, perché oggi abbiamo visto concretamente ancora una volta che cosa ci aspetterà sabato. Intanto da oggi è ufficiale lo slittamento dell'inizio dei play-off di Serie C. Il primo turno si giocherà martedì 7 maggio con il Rimini impegnato a gubbio, con calcio d'inizio probabilmente alle 20.30. Questa sera in diretta dalle 19.35 alle 22.30 torna invece l'appuntamento con calcio.basket. Tra gli ospiti in studio il direttore generale dello Young Sant'Arcangelo Mario Zavatta, il direttore sportivo dello Young Sant'Arcangelo Luca Scattolario e il centrocampista della Victor San Marino Adamu Aruna. Insieme a lui anche il direttore sportivo del Tropical coreano Beppe Terenzi e il capitano del Cattolica Calcio Fabio Cuomo. Previsti durante la parte dedicata al Rimini collegamenti in diretta con la festa del club Tre Moschettieri. Questa è la nostra ultima notizia. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento di serata.